E ci vuole il video perché oggi, quindi, questa scuola di domenica c'è il Flair, questo il dance, non fatele, questa persona l'abbiamo riproposto a varie volte in questo anno di festa, di venerdì sera e adesso stanno festeggiando la fine dei corsi siamo festeggiando, perché io mi sento della scuola e adesso stanno festeggiando la fine dei corsi e adesso stanno festeggiando la fine dei corsi forta sicchia Grazie a tutti.